La seconda di aprile L'onore del primo piano Sotto la pioggia si conclude la Parigi-Roubaix Vittorioso il belga Raimondo e Penny Finale a sorpresa nella Coppa Toscana Dei tirannisi prima Billoresi Poi Castellotti entrambi su lancia Il fiorentino Piero Scotti Vince brillantemente con la sua Ferrari 4.500 A oltre 126 di media Se li merita gli abbracci